PAM! T'è schizzato ai livelli di un Monet, di un Cézanne, di un Picasso, di un Vettelan! Esatto è questo che noi oggi puntiamo su un Bepinlievole! Sì, signore! Questa è la seconda opera! La vacca pianse! La vacca pianse! Pianse! Tutto attaccato? Rigorosamente tutto attaccato! Ma cosa c'è da vedere? Guardate le lacrime della vacca! L'umanizzazione di questo! Puoi stringere sulle lacrime della vacca! Ecco!